Dimmi che genere di poteri hai. Ascolta. Che cosa? Sono qui. Riuscite a visualizzare Alpha 10. Affermativo, Alpha 10 a step. Il sospettato è un elettrico di classe 5 che è stato avvistato insieme alla ragazza scomparsa. Alpha 10 conferma la posizione delle unità di novità. Guardi ai propri per l'invio. È tutto a posto. Diamo soltanto un'occhiata.